Ciao a tutti, allora volevo raccontarvi la storia di Carado, ma purtroppo sul loro sito non l'hanno messa e quindi io non sono riuscito a trovarla da nessun'altra parte, quindi non ve la posso raccontare ma Carado ha fatto una cosa che nessun'altra ditta ha fatto finora, almeno che io non ho ancora visto fare questa cosa da nessun altro finora Carado è una di quelle poche ditte che ha la trasparenza che dico io Nel suo sito c'è il prezzo dei mesi di partenza, gli optional e tutti i prezzi degli optional C'è in 10 minuti, 15 minuti, riesce a fare un preventivo online con un prezzo finito che poi sarà ad aggiungere le varie tasse di matricolazione Uno dei pochissimi che ti dà questa possibilità e che quindi ha la trasparenza che ho sempre chiesto io che ho sempre detto io e in più lui ha aggiunto una cosa che io non ho mai visto fare da nessun altro Quindi andiamo a scoprire il sito, andiamo a vedere i furgoni e poi andiamo a vedere anche un camper con le dimensioni di un furgone Iniziamo! Bene, questo è il sito di Carado, come vediamo è un sito molto semplice e è vero che non c'era la storia ma ha un punto a suo favore anche più di uno Adesso andiamo subito a capire quali sono i punti di forza e le cose che mi sono piaciute Allora scendendo giù vediamo immediatamente che ci sono tutti i modelli con i prezzi di partenza Quello che ci interessa a noi in questo video sarà il furgonati e questo qui che sono i camper con le dimensioni di un van, di un furgone Infatti loro questi li chiamano van, mentre questo qui lo chiamano camper van Andiamo in scopri di più e questo è qui come si presenta la pagina dei camper van Vediamo che sono dei mezzi abbastanza semplici con un prezzo veramente veramente ragionevole di partenza L'unico a essere omologato con 4-5 posti letto è il CV601 con prezzo di 38.090 euro presso di partenza Mentre tutti gli altri sono omologati 2-3 persone Andiamo a scoprire un po' il nostro furgonato E così è come si presentano Qui ci sono le varie opzioni dove viene fuori le fotografie E vediamo chi ha letto matrimoniale a castello sul retro Questo è il bagno, qui la doccia si separa con la tenda E questo più o meno come si presenta Qui vediamo tutti i dettagli che ti dicono subito all'inizio E vediamo che come base di motorizzazione è un 88 cavalli Qui sotto troviamo la panoramica a 360 Secondo me questa è una cosa molto intelligente da fare Perché ti permette di vedere il camper come se fossi all'interno E in più con la rotellina del mouse potete anche andare a zoomare o tornare indietro Questo è un po' il mezzo come si presenta all'interno Vediamo molto bello Con gli oscuranti interni Bene Scendiamo un altro po' Sono un po' di foto ma nulla di che E la cosa più importante è il configuratore Se ne andiamo qui in avvia la configurazione Ti fa scegliere il modello che vogliamo configurare In questo caso questo Andiamo a configurare il campervan CV6E1 Seleziona E vediamo che il prezzo di base appunto è 38.900 Quello in cui io ci farei un attimo una ragionata È questi due pacchetti Perché ti mettono degli optional che mi risultano un po' particolari Come ad esempio questo qui dotazione doccia E anche il climatizzatore manuale nella cabina guida Mi fa dedurre che questi due pacchetti Praticamente sono da inserire quasi per forza Se uno vuole un minimo di comfort Perché altrimenti non avete neanche l'aria condizionata Quindi le se le segniamo Poi andiamo avanti Questo qui io lo solterei Continua Qui vi fa scegliere i motori diversi Io sceglierei almeno questo qui da 140 cavalli Quindi se le segniamo Ok Poi andiamo avanti Queste sono tutte le altre cose che potete mettere Ad esempio c'è anche l'aumento del peso 610 euro per avere la possibilità di caricare 200 kg in più sul libretto Questo aspetta voi Io non lo metto Ci sono i cerchi Un attimo da leggere insomma Magari questo qui io lo metterei E poi bisogna leggere un attimo sotto le varie cose Adesso noi andiamo un po' in fretta E quindi alcune cose le saltiamo Fari fendinebbia Se uno servono Questi sono i miei sensori Il parcheggio posteriore Beh io questo magari ne metterei Dopo questi optional qui Dovete guardarveli meglio voi E leggerli meglio voi Io non sto a mettere tutto Metto giusto le cose essenziali Comunque vediamo che siamo già a 4790 euro E praticamente non ho messo quasi nulla Perché se no che guardate Gli optional sono quelli basi insomma La vernice non la metto Ma va dai 600 euro ai 350 euro A seconda dei colori Continua Questa roba non la metto Questo qui lo metto Serbatoio acqua e grigi isolato e riscaldato Questa è una cosa per me molto utile D'inverno E siccome parliamo di un camper per famiglia Io metto anche il letto aggiuntivo Così si può dormire in 5 E continua Seconda batteria La vendono a un occhio della testa Possiamo anche non metterla Le disposizioni dei cavi Beh io questo qui le metterei tutti E questo qui invece non mi interessa Ok Abbiamo finito E vediamo che ci sono 6370 euro di optional E questi sono gli optional che ho messo io Che se voi andate a vedere Cioè Potevamo metterne tanti altri Perché i fendinebbia sono una cosa che Vuoi non metterla? Poi già ne sarebbero Cerchi lega La vernice diversa Insomma E il prezzo totale È di 44.460 euro Poi di qui bisogna aggiungere Tutte le spese di immatricolazione Insomma Questo fa ragionare sui prezzi base Perché delle volte dicono prezzi base Bassi Ma vediamo che c'è anche un motivo Insomma Perché dopo niente che ci metti gli optional Vai ad aggiungere 6.000 E passa euro di optional Bene Andiamo a vedere Detto questo Anche Quelli che loro chiamano Van Eccoli qui Che questo qui è un mezzo Molto molto interessante Per la coppia Che ama star bene Viaggiare comoda Qui vediamo che sono Praticamente dei camper Ma dalle dimensioni Di un van Di un furgonato Vediamo questo qui Che è il più piccolo Che è 6 metri Appunto vedete che sono 2-3 persone Posti letto Andiamo a configurare il V132 Leggi tutto Questo è il V132 Questi sono gli optional Che vediamo Che sono uguali All'altro Il motore di base È sempre quello Da 88 kilowatt 120 cavalli Io però metterei Il 140 E poi anche qui C'è la panoramica A 360 Molto molto Utile E comoda Per dare Una sbirciatina Dentro E vedete che bene o male Dentro Le dimensioni Sono simili A quelli di Un furgonato E leggermente Più spaziose Soprattutto Dietro E poi Anche come estetica Cambia Quindi è una questione Molto personale Qui ci sono Un po' di foto Questo è come si presenta E a mio avviso È abbastanza Bello C'è un camper Molto bello Andiamo in Avvia configurazione Voglio far vedere Una cosa estetica Questo è il secondo Portellone Di carico Vedete che è più piccolo Rispetto a questo qua Qui ci entra la bicicletta Qua no Ricordatevelo questo qui Perché negli optional C'è anche La possibilità di aggiungere Questo sportello Allora Qui scegliamo Il nostro modello Configura Van Perché loro lo chiamano Van Vi hanno detto che vogliamo Il V132 Quindi avvia la configurazione E presto base È 39.820 A differenza dell'altro Qui i pacchetti Sono già inseriti Di partenza Base E gratuiti Qui c'è un centesimo Non so perché Ma sono gratuiti Quindi possiamo fare Continua E anche qui Scegliamo la motorizzazione Un pochettino più potente Io sceglierei Questa qui Da 140 cavalli Poi Poi questa è Una mia idea Insomma C'è chi che Questi 900 euro Dice per avere 20 cavalli in più Non le voglio spendere Quindi non le spende Però Più di potenza Secondo me Non guasta Su questi mezzi Qui ci sono tutte Le varie motorizzazioni Io aggiungerei anche Il serbatoio Da 90 litri Perché Di serie Ne ha uno Da 75 litri E questo qui Può sembrare Una cavolata Ma se uno Viaggia molto E soprattutto all'estero Potrebbe essere Una cosa utile Quindi applica Poi cambio Cambio Niente Cerchi Niente Veniamo avanti Mettiamo un po' L'essenziale Serbatoio isolato Questo io lo metto Perché Se andiamo in montagna Può tornare utile Quindi Stazionamento Se li volete mettere Potete metterli Questo dipende Un po' da voi Io le metterei Perché almeno Ti fa risparmiare Un po' di tempo Quando devi fermare Quelle soste veloci E poi costano Una cosa ragionevole Avanti Seconda batteria Pi loro La mettono A una follia Io la metto Perché magari Uno che fa viaggi lunghi Può servire In questo tipo di mezzi Per questo vedete voi Truma Se volete Che fate molto inverno Volete una truma Più potente Con riscaldamento elettrico Questo c'è Fate voi E poi c'è anche Questo qui Pavimento Riscaldato Elettricamente Nella zona giorno Eh beh Se uno va in montagna Potrebbe essere un'idea Poi la predisposizione Di cavi Io la metto tutta E volendo C'è anche il forno Se uno cucina molto Anche questo potrebbe essere comodo Bene Vediamo un po' Che abbiamo finito Qui ci sono 2390,1 centesimo Di optional Questi sono gli optional Che ho aggiunto E a mio avviso Sono gli optional Che bene o male Servono Per avere un bel mezzo Poi avrei aggiunto Anche qualcos'altro Essere sincero Ma questi sono proprio Quelli base Quindi vediamo Che anche qui C'è un po' di optional Ma non Come prima 6.000 euro E andiamo a un prezzo Molto molto ragionevole Di 42.210 euro Virgola un centesimo Beh come prezzo Io direi che Non è affatto male Insomma Per il mezzo Che abbiamo E un mezzo Completo di tutto Con la possibilità Anche di avere Un garage Da mettere via Una bicicletta Nascosta dentro Che il van Non ti dà È una Una bella soluzione Ti farei un ragionamento Sopra insomma Un'altra cosa Che volevo far vedere Di Carado È Il fatto Che vende Anche gli accessori Per i propri mezzi Infatti c'è Un sito Ve lo lascio Nella descrizione Dove trovate Tutti i vari accessori Che c'è proprio di tutto Anche gli abiti Con tutti i vari presti È una sorta Di negozio online Bene Ora passiamo Alla chicca Io ho scaricato Il pdf Dei vari modelli Purtroppo È scritto in tedesco E io non capisco Il tedesco Quindi Ci sono qualche immagine Poteva essere Interessante Ma La cosa interessante È che Mi hanno mandato Due pdf In questo pdf Qui Invece Ho fatto qualche traduzione Tipo questo qui Sarebbe Il serbatoio Isolato termicamente I presti sono Leggermente diversi Quindi non fateci Tanto caso Perché Comunque pdf Tedeschi Magari hanno altri presti Non c'è iva Quindi I presti Non prendeteli Proprio alla lettera Ma quello che ci interessa A noi È che Ti dice Che per isolare Il serbatoio Delle acque Vai aggiungere 10 kg Al peso totale Che voi fate Un po' di traduzione Tipo la batteria 27 kg Vedete C'è tante cose Con tutti i pesi Il fatto di avere Il peso Per ogni optional È una cosa Che io Non ho visto In ora Che gli altri modelli L'abbiano fatto Cioè Gli altri dite costruttrici Questo dato Non te lo danno Quindi È vero che non c'è la storia Ma Un gran bel punto Per Carado Bene E anche per questo video è tutto E ci vediamo al prossimo video Ciao